Grazie, Presidente. Parto esprimendo ringraziamenti per il parere favorevole che in buona sostanza è stato dato dal Sottosegretario Santelli sulla nostra mozione, ovviamente con delle modifiche che accettiamo perché sono perfettamente compatibili con il ragionamento che sviluppiamo nella nostra mozione. Mozione che è presentata in un momento particolare della nostra vita nazionale, dove dei dati ci fanno capire quanto grave e quanto drammatica sia la situazione. Siamo al 45% di disoccupazione giovanile, con alcune zone del sud in cui il dato è al 50%. Situazione ovviamente che non è solo italiana, è una situazione che in zona euro ci vede in compagnia anche di altri Paesi, ma che probabilmente qui da noi ha assunto forme e toni ancora più gravi, forse anche in considerazione di alcune riforme che qualche anno fa lo Stato italiano e il Parlamento hanno provveduto a fare, determinando una situazione sconosciuta fino ad allora che in qualche modo ha comportato il passaggio all'età pensionabile drammaticamente dai 57 ai 67 anni. Non perché in assoluto non fosse giusto rivedere il nostro sistema pensionistico, ma perché in una situazione di particolare gravità nazionale e magari anche ultranazionale si è inserito un'ulteriore situazione di difficoltà che di fatto ha bloccato il turnover lavorativo. La nostra mozione, ringraziando tutti gli altri partiti, movimenti e gruppi che da altri punti di vista esaminano la difficoltà in cui siamo, pone l'accento in particolare su una idea, quella della staffetta generazionale che in qualche modo forse ci può aiutare in una situazione di difficoltà simile, pari a quella che descrivevo prima. Staffetta generazionale che peraltro non nasce adesso. Qualche spunto vi è stato, lo abbiamo ritrovato nella discussione che abbiamo avuto all'atto dell'insediamento di questo Governo, già nelle parole che a tal proposito ha pronunciato il Premier Enrico Letta, ma che in qualche modo trova già qualche fondamento culturale nella nostra elaborazione. Già nella legge 3U del 1997 si faceva riferimento a una ipotesi del genere. A noi preme in qualche modo dire che insieme con tutti gli altri provvedimenti che sono all'esame del Governo, questo ci sembra uno che in qualche modo possa dare un impulso maggiore e più rapido per risolvere questa drammatica situazione. Revisione Fornero che ha creato il blocco del turnover, staffetta generazionale. Qui si può chiedere un contributo a tutti quegli italiani che sono in via di esaurimento della loro vita lavorativa attiva, se ciò può servire in qualche modo ad aiutare i propri figli per sbloccare una situazione drammatica. Oggi un lavoratore, al culmine della sua esperienza lavorativa, ha un costo più o meno doppio rispetto a quello di un giovane assunto per la prima volta. Se questo dato è vero, ed è vero, probabilmente, come diceva chi mi ha preceduto, facendo riferimento alla solidarietà che in situazioni di difficoltà deve venire fuori in tutta la sua capacità di dare una mano quando c'è necessità che fra generazioni ci si dia una mano, probabilmente questo aspetto. Debo dire con piacere, abbiamo visto che anche il Ministro Giovannini ha fermato la sua attenzione su questo aspetto rispetto a tutti gli altri aspetti che in qualche modo servono per incentivare lo sblocco di questa situazione drammatica, questo aspetto secondo noi è sufficientemente rapido e probabilmente in qualche modo dà una mano ulteriore a risolvere la situazione che stiamo vivendo. Io ho ascoltato con attenzione le correzioni, o comunque le modifiche che il Governo propone alla mozione di Centro Democratico. Credo che siano tutte compatibili, come dicevo ad apertura di ragionamento, siano tutte compatibili con lo spirito che impregna la nostra mozione, per cui le accettiamo senza alcun problema. Voteremo a favore della nostra mozione, ma di tutte le altre mozioni che in qualche modo vanno in questa direzione. Ringraziando il Governo che ci dà l'opportunità in un momento particolare della nostra vita nazionale di affrontare con serietà, così come io mi auguro continueremo a fare fino alla fine di questa giornata lavorativa, un problema che è il problema dei problemi. Noi pensiamo che più dell'IVA o più dell'IMU probabilmente la disoccupazione ed in particolare quella giovanile debbano diventare il faro su cui l'attività del Governo, ma anche l'attività del Parlamento, ma anche l'attività delle forze politiche si debbano cimentare nelle prossime ore e nelle prossime settimane. O ne veniamo fuori in modo tale da creare la svolta rispetto alla situazione di drammaticità che stiamo vivendo o continueremo a discutere di cose che hanno minore impatto sociale sui cittadini e sugli italiani. Il problema del lavoro e il problema del lavoro giovanile è il problema dei problemi e su questo se stamattina facciamo un buon lavoro probabilmente aiutiamo le generazioni che vengono dopo di noi a recuperare un po' di fiducia nel loro futuro, atteso che se non c'è fiducia probabilmente non c'è neanche progresso. Grazie Presidente.